Giro turistico in costiera amalfitana e sorrentina a bordo di taxi con tariffe fino a 200 euro, tassisti abusivi senza tassametro né insegne pronti all'accoglienza dei turisti della Divina. Ma questa volta il loro tour è stato interrotto dai carabinieri della compagnia di Amalfi, diretti dal comandante Umberto D'Angelo Antonio, che ieri pomeriggio hanno scoperto e incastrato due tassisti abusivi, sanzionando due cittadini napoletani di 64 e 66 anni, beccati mentre esercitavano l'attività di tassisti senza possederne i titoli previsti. L'operazione è frutto di una segnalazione fatta ai militari dell'arma da parte di alcuni cittadini, che avevano notato questi due uomini nei pressi del bivio che conduce a Positano, lungo la strada statale 163 Amalfitana, con due macchine differenti, una delle quali con targa polacca, che chiedevano a dei turisti se avessero bisogno di un passaggio. La pattuglia dei carabinieri, giunta in zona, ha notato ai mezzi partire direzione Amalfi. Dopo averli seguiti a distanza, gli uomini dell'alicota radiomobile hanno osservato che le due vetture giunte in piazza Flavio Gioia hanno fatto salire a bordo alcune persone per poi ripartire prontamente. A questo punto, con una manovra repentina, gli operatori hanno fermato i veicoli per un controllo, sentendo prima le dichiarazioni degli ignari passeggeri, vacanzieri e stranieri, i quali confermavano che i due tassisti per le cifre rispettivamente di 200 e 180 euro si erano offerti di condurli in un tour della penisola Amalfitana e Sorrentina. A questo punto i conduttori sono stati portati in caserma per la compilazione degli atti e nei loro confronti è stata elevata la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per l'attività abusiva di trasporto di persone che prevede il sequestro amministrativo del veicolo ai fini di confisca e la sospensione della patente per quattro mesi.